Con la mia bicicletta, portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo... Le montagne avevano bisogno anche dell'apporto delle donne, loro da soli non potevano perché quelli che erano su... Ce ne sono un'intimità di donne che hanno fatto l'onigiene, anche ai monti... Non ce ne parla, non ce ne parla, non ce ne parla, niente... Anche ai monti, se ne parla, non ce ne parla... Ho deciso di fare la stafetta partigiana proprio perché eravamo stufi e proprio spaventati con la gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao. Ciao.